dunque buonasera buonasera a tutti quanti voi bentornati alla rubrica tra musica e parole finalmente siamo tornate sì vi siamo mancati vero vi siamo mancati dite la verità allora per primissima cosa appunto vi saluto tutti vi ringrazio di essere qui ma ho bisogno che mi diate un feedback a livello di audio mi sentite ci sentite perché sempre meglio controllare e intanto che mi date il check inizio a salutare tutte le persone che sono già arrivate tra cui per primo zero che ci dice ciao zero ti salutiamo tantissimo c'è anche max buonasera valentina eccola qui ciao valentina c'è l'immancabile zelcor c'è tito max tito buonasera cristiana caterina zelcor eccolo qua giustamente lo mettiamo in rilievo buonasera 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 ancora caterina poi vediamo un po massimo buonasera imotep buonasera anche a te pier luigi buonasera andrea buonasera e poi c'è il yuk buonasera david davide atana giusto si pronuncia atana vero buonasera jesus buonasera buonasera marika ok tutti quanti mi stai dicendo che si sente assolutamente assolutamente vi sentiamo alla perfezione grazie pier luigi grazie salvi sidra è perché diciamolo che vir sta inaugurando la nuova attrezzatura in live esatto ragazzi assolutamente questa sera finalmente sono riuscite a capirci qualcosa e quindi da questa sera mi sentite con la strumentazione nuova microfono ma anche già mi dimentico sempre effettivamente perché effettivamente c'è il link di solito in descrizione nei video poi lo aggiungerò a fine live per chi volesse aiutarmi a sostenere il mio lavoro ma vabbè andiamo avanti pubblicità esatto harlan buonasera davvero buonasera a tutti quanti penso di non esserci persi nessuno ma anche perché c'è un delay di circa 20 secondi da quello che diciamo a quanto arriva la chat sto controllando è terribile ma pensa che appunto appunto io poi guardo la chat da da streamer ed è sempre un po in delay quindi figuriamoci io poi sono lenta rispondere dai vogliateci bene lo stesso mandateci mandateci lo stesso tanti abbracci con distanziamento sociale lo stesso dai su esatto esatto e buonasera anche a te marcello oh bellissimo benvenuti benvenuti tutti quanti valentina dice scemo chi legge proviamo a vedere ecco vai proviamo a vedere quanto siamo avanti vittorio verifica con valentina quanto tempo fa l'ha detto troppo perché si è già perso nella chat in realtà quindi proprio ecco io sono già al commento di tito già da ogni ruolo di abbraccio abbraccio anche a te tito sì infatti c'è un po di delay tra tutti i messaggi quindi ragazzi avuto il commendatore carissimo ziro visto che abbiamo questa gimmick fra noi traduttori avvocati commendatori senatore dottori è giusto giusto assolutamente buonasera siamo già in 22 tra l'altro fantastico io ragazzi comincio davvero l'età non puoi fare queste cose e sono sentita in pubblica questa voce dall'oltre tomba il cuore debole no ragazzi io mi dimetto oh mio dio ma ascolta una cosa e ti può fare una colletta per far fare gli asmr a grivita a sto punto ma se è grivita allora ok basta che non sia io no perché io percepisco del potenziale te che dici birra l'obbligiamo secondo me volendo potrebbe effettivamente mettere grazie che poi non devi scegliere grivita tu cioè tu saresti obbligato non hai pochino ma dopo quei tre secondi di parlare così piano io urlerei fortissimo sarebbe bello sarebbe da morire se l'immagini che un l'audio asmr poi te ne lieva lo strillo che ti spacca i timp ciao anche a stefano buonasera dunque ragazzi allora per il grande ritorno della nostra rubrica vi raccontiamo una storia di vendetta di sangue di delitti atroci insomma chi più ne ha più ne metta parliamo di medea la medea in particolare di cherubini ma ovviamente medea essendo un personaggio mitologico non potevamo non chiedere aiuto e ancora una volta a sostegno al nostro grivita super esperto di mitologia che ci ricorda tra l'altro che medea è una storia che trae una morale e noi la morale la diciamo subito perché merita grivita vuoi illustrarci la morale che ci hai sintetizzato nel backstage la morale è che la medea è quella postrofo rosa fra le parole t'ammazzo vi giuro ragazzi prima in backstage è uscita benissimo cioè grivita ci sta ci sta lentamente uccidendo con le sue battute stasera è carichissimo e io sono felicissima di questo sono felicissima grazie zero non ti preoccupare non ti preoccupare poi quando vuoi riascolta pure anzi grazie di essere passato a salutare ciao ciao zelcor ci ricorda che è una madre così adorabile ma fosse solo madre una figlia una zia una cognata così adorabile una nuora eccellente può essere presa ma come come esempio come compendio diciamo di come di come reagire in maniera matura oserei dire alla fine di un rapporto è vero in maniera sobria così sana misteri buonasera e anche buonasera a meri così sobria che alla fine se ne va via con un carro dorato volante cioè esatto e io bella frate me la immagino con gli occhiai da sole stile uè dei sini rolling dei 18 però ragazzi stiamo già spoilerando troppo io direi di fare un passettino alla volta dunque questa sera appunto come vi abbiamo già detto e come si vede già dal titolo racconteremo la storia di Medea Medea come opera non è molto visitata all'intorno del territorio operistico perché effettivamente ha un po' di difficoltà l'opera ha iniziato a essere particolarmente conosciuta nel novecento grazie alle interpretazioni di Maria Callas che è quella che ha portato in auge il l'opera e farla conoscere a più ampio pubblico la Medea è un'opera che è stata composta tra fine settecento inizio ottocento appunto da Cherubini che era un compositore italiano ma che si era trasferito a Parigi e quindi la Medea in realtà sarebbe composta sarebbe stata scritta a livello di libretto in francese ma poi è stata tradotta sia in italiano che in tedesco e Beethoven ne aveva detto molto bene di Cherubini l'aveva definito il più grande compositore drammaturgico di sempre insomma un gran bel curriculum leccaculo dettagli dettagli vi dovrà dei soldi probabilmente ma probabilmente Tito ci dice la Medea è un tantino indigesta almeno la versione italiana ma guarda ti dirò a livello musicale mi era piaciuta molto e se si parla del dramma da cui poi dopo nasce tutto beh in effetti il dramma è tratta dalla Medea di Euripide in realtà ci sarebbero anche altre due fonti che una era di un drammaturgo francese Giada ricordaci il nome Euripide no no e scusami il drammaturgo perdonami il drammaturgo francese Euripide sicuramente proprio francese di Parigi avevamo visto le versioni cioè io avevo riesumato insomma diciamo versione di Charpentier poi anche quella di di Pacini ne avevo trovate due tre versioni proprio dal titolo Medea poi giustamente come dicevi tu prima mentre parlavamo noi nel backstage così sempre diciamo vabbè la trama è sempre quella ci sarebbe anche il Giasone di Cavalli che quindi anche se il il title role diciamo così diventa Giasone però comunque Medea c'è tra i personaggi principali ecco quindi la trama è poi sempre quella sì infatti cambia soltanto il titolo magari appunto lo chiamano Giasone o gli Argonauti ma de facto sempre quella è comunque però sì a livello comunque di trama è stata presa ed è stata fonte di ispirazione di molte appunto parliamo di opere ce ne sono state davvero tante effettivamente cos'è era una decina mi pare e anche tante opere a livello visivo quindi arte visiva e pittura anche scrittura insomma è un personaggio mitologico veramente molto molto potente e c'è da dire che secondo me noi altri comunque sia non lo so abbiamo un po' il gusto dell'omicidio cioè quando c'è qualcuno che no è dentro di lui o lei l'assassinio è potente su vai fichiamolo dappertutto dai dai la sua iconografia beh Grevy giustamente avrà da dire in merito che nella mitologia greca di morti e di ammazzamenti ce n'è sempre stata Iosa io stavo leggendo l'altro giorno un libro per una playlist che devo aprire a breve spero in cui sottolineavano il fatto di come i greci sono stati molto particolari nel voler lasciare nella loro mitologia tutta sta morte tutta sta violenza forse per evidenziare quello che era prima visto che comunque tipo dopo la guerra di troia di mitologia non ce n'è più cioè i dei se ne vanno metaforicamente parlando quindi magari per sottolineare che erano tempi antichi tempi selvaggi o che il potere si è dovuto conquistare con quei sacrifici però poi arriva arriva un'idea che è veramente pesante come Roma eh sì eh sì eh gli argonauti che sono un bel botto tanti personaggi tutti collegati fra loro tanta morte Zelcor sempre c'è un pezzo beh Zelcor ha capito tutto che vi state tornando a congetter sull'orrido e beh giustamente e che vogliamo fare con doppia pirouette anche perché in effetti qua l'opera migliore per ricominciare se non Medea è un'opera che conosciamo soltanto noi ma che ci piace tanto e soprattutto così coppa esatto così allegra così insomma dalle tematiche così leggere spensierata sì 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 felicissimi e ah sì poi c'era negli others che ci diceva che ringrazio del fatto che stiamo pronunciando Giasone e non Giasone per quanto le pronunce entrambe dovrebbero essere corrette sì sono ente per quelle dipendono dagli accenti greci quindi Giasone no davvero fa molto staglio olio però Giasone davvero mi dicono che mi intendo di mitologia norrena ogni tanto ne parlo ho fatto tipo quei 27 video al riguardo sì ma assolutamente mamma mia mamma mia Grivitt è un grandissimo esperto di mitologia se andate sul suo canale e vi iscrivete troverete un forziere di meraviglie quindi mi raccomando andatevi ad iscrivere ma anche al canale di Giada che è bellissimo pieno di bellissime esibizioni sue allora iniziamo a raccontare la storia shall we sì bisogna un po' contestualizzare esatto nel frattempo appunto Vittorio tu sentiti libero di fare degli interventi tema mitologico anche interrompendoci perché appunto noi poi spariamo cavolate unisciti a noi nelle idiozie io comincio con una cosa quindi cavalli che è il frattempo date la colpa ad era date la colpa ad era ah sempre con il dubbio nel dubbio se non è colpa di Zeus è colpa di era qua stavolta è colpa di era appunto eh vedi sono tutti dei gran figli di era è vero eh tra l'altro la madre degli dei chi può dire di veramente non è vero mai ne ha fatti solo due di figli importanti lei non ne ha fatti e quello è il problema ma infatti non ne ha è vero eh sì quindi tu cioè aspetta che ci vorrebbe il meme il meme no? quindi lei mi sta dicendo che ora già utilizzava la maternità surrogata magari la surrogata quelle sono le corna non è la maternità surrogata beh sono modi diversi diciamo è vero è vero di concepire mettiamola così madonna sana modi diversi di ovviare alle sbagliature da parte però appunto Gribit se vuoi già mi ha anche anticiparci perché è colpa di era in questo caso praticamente tutta la sequela di morte e distruzione viene da un'offesa fatta ad era Gribit leggi il commento di Max che fretta c'era maledetta di era con un po' più dai con un po' più diverso Vittorio dai dai più a sentiti sentiti proprio Loretta Goggi inside vai no Loretta Goggi no scusate che dimmi ti abbiamo interrotta ma al battuto per favore no per favore per piacere però Max il commento andava letto continua pure continua pure praticamente lo zio di Giasone quello che gli commissiona di andare a recuperare il vello d'oro perché non gli vuole dare il trono non si vuole staccare dalla sedia in realtà anche lui a sua volta era un povero disgraziato perché era stato esiliato era tornato a Casasuba incazzato con una iena era arrivato a Iolco e ha fatto il macello ha ucciso un bel po' di gente tra cui molti suoi familiari e praticamente ha ucciso una donna che era la madre si era la madre del suo fratello una cosa del genere vabbè è un casino che si era rifugiata nel nel tempio di Hera era per ripicca ma le dice tutto dice prima o poi deve arrivare qualcuno da parte mia che vi sterminerà tutti è la miseria e difatti Giasone è l'uno dei pochissimi eroi protetti da Hera ma dai è il più valordo degli eroi lo protegge Hera esatto tu ti dici uno eroe devi andarti a scegliere proprio il più stigato è uno dei pochissimi eroi che vengono protetti addirittura da Hera tra l'altro Giasone senza avere particolari ascendenti divini tra l'altro infatti a me non sembrava che avesse appunto legami con semidei o simili no perché effettivamente Pelia che è lo zio è effettivamente figlio di Poseidone però il papà di Giasone è figlio della stessa madre di Pelia ma di padre mortale quindi Giasone in realtà non ha legami col divino diretti ha un ottavo di divinità cosa ha no nulla perché il papà Pelia è il fratellastro del papà di Giasone quindi lui non ha nulla cioè praticamente è talmente anacquato che praticamente non esiste allora partiamo dal presupposto che in Grecia sono tutti figli di qualche dio alla lunga quindi la divinità Giasone è molisano però però alla fine Giasone è umano è proprio uno di quegli eroi che sono proprio umani puramente umani mortali e invece paradossalmente lo zio è cattivo ed è semidio cioè bello fantastico questo rivoltamento Vira è arrivata chi è stata no ma da una parte penso meno male che Giasone non era neanche semidio né niente già ha fatto anni così figuriamoci se aveva pure dopo iniziava a vantare c'è il sangue divino gne 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 sto rompendo comunque sì sì è vero 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 ah era la la matrigna la matrigna ha ucciso Sidero Siderone ha ucciso ok va bene ok posto niente madonna che non direi che una di quelle famiglie che volentieri li abbracci a Natale alle feste comandate proprio guarda ti fa piacere proprio rivederli è la seconda moglie del nonno di ripelia praticamente alla lontanissima ciao Andros ma salve Andros Andros ma buonasera ma buonasera signori allora buonasera buonasera a tutti data questa importante premessa perché giustamente a ogni drama c'è sempre comunque un anticipo iniziamo a raccontare la storia che viene narrata nell'opera e nel frattempo appunto parliamo delle differenze col mito e io cercherò di inframezzare delle letture dalla Medea di Euripide ringrazio Max in particolare che mi ha mandato anche lui una versione Alessio ho due versioni aperte di Medea di Euripide ho due versioni di cui una mi è stata gentilmente inviata da Max grazie Max sempre gentilissimo allora iniziamo a raccontare la storia è già nel vivo la storia inizia con Glauce tra l'altro che voi dite chi cacchio è Glauce Glauce all'interno dell'opera sarebbe la promessa sposa di Giasone che assieme alle suancelle si sta acconciando perché dovrebbe apprestarsi a sposare costui peccato poverina non sa in che casino si sta andando a infilare povera in giro esatto per quanto all'interno dell'opera comunque Glauce lo dice subito che ah io sento scuri presagi perché ovviamente il personaggio di Glauce è il tipico soprano lirico puro innocente poverina vittima degli eventi delicata no tutto il resto ecco e quindi dice sì lo so che sto per sposare Giasone però c'è comunque la sua ex che insomma non è tanto contenta e temo porti sventure le ancelle no ma che bravi che andate bene le ancelle che vogliono dire no ma tranquilla non ti preoccupare no per l'amore di Dio ci mancherebbe e infatti poi arrivano anche il padre di Glauce che è Creonte e il re di Corinto di Corinto di Corinto è Cosa Corinto è Giasone dovrebbe essere eh però nell'opera ce l'aveva nell'opera lo chiamavano così no no ho concorso Creonte perché quello è Creonte di Tebe che è quello è lo zio di Edipo statemi sì niente erano nomi un po' comuni all'epoca come era Ercole come era questo nome Ercole ah ma ti ricordi quel lato in cui tutti i bambini si chiamavano Ercole Giudone se le bambine si chiamavano Barbara ho concorso Creonte che cosa imperdonata due stigati però vabbè no ma non ti preoccupare anche perché appunto tutti questi nomi un po' e poi si ripetono pure a voglia no e il fatto è che Creonte è un nome ingannatore perché Creonte significa semplicemente comandante re e beh sì in effetti quindi tu voli dimettere il nome il nome a un re di una città chiamiamolo Creonte tanto se ti andranno a indagare il re diventava re si esatto mi chiamo re e quindi appunto poi entra in scena anche il padre appunto di Glaucio il re Creonte e proprio Giasone che dico no ma stai tranquilla non ti preoccupare non succederà niente e all'improvviso esce una voce esce una voce appare una voce che dice ah è qui allora che se la spassano i traditori sono qua a farsi a tre femmine ma che bella che bella riunione di famiglia arriva il re che dice tu chi sei e lei dice io sono Medea si toglie la veste dal capo con cui si era un po' incappucciata per fare l'ingresso a sorpresa e i personaggi col coro incluso perché anche il coro comunque è una funzionalità di personaggio con una mentalità comunque autonoma in un certo senso è proprio un personaggio il coro in questa vicenda che richiama un po' la dinamica proprio del teatro greco e tutti oddio ma è Medea e Medea dice subito alla gente no tranquilli raga voi io con voi non ce l'ho tranquilli io ce l'ho solo con quei tre balordi là voi potete fare quello che vi pare e la gente fuggi fuggi generale oddio c'è Medea scappa perché Medea non è che esattamente avesse una bellissima fama anche perché lei appunto era considerata una potentissima maga e soprattutto aveva già esatto aveva già appunto fama dei suoi delitti anche precedenti e quindi insomma non era tanto ben vista oltre al fatto che lei era straniera rispetto comunque agli altri greci e quindi era ben vista i greci erano profondamente razzisti guarda non faccio fatica non faccio ma tipo tanto sì ma infatti la xenofobia cosa nacque proprio nella sì nell'antica grecia basta dire che uno parlasse una lingua leggermente diversa per essere chiamato barbaros barbaros significa palbettante perché bar bar era il palbettante eh vedi perché come se non si capisce no quindi la propria difficoltà di linguaggio barbaro da qui anche Barbara come nome proprio nome di persona ma l'idea poi tra l'altro era veniva dalla colchide la colchide è tipo un territorio che no era tipo l'estremo confine del mondo stanno le robe stanno di dei stanno tutte ste cose qui sì infatti viene comunque citato anche mi sembra in Euripide il fatto che poi Giasona una certa proprio dice ah ma io ti ho beccata ai confini del mondo che se rimanevi là saresti rimasta sempre un incivile cioè perché Giasona ovviamente nella storia di Euripide è un gran signore lo prendereste a sberle è un gran signore insomma no no più che altro poi Medea è o la figlia o in qualche modo imparentata con Circe è il nipote di Elio perché Ete è il figlio di Elio suo padre Ete della colchide è il figlio di Elio ha ucciso il fratello per permettere a Giasone di scappare nonché ha rovinato tutti quanti i piani al padre ha ucciso per l'appunto Pelia per tra l'altro l'ha ucciso in una maniera terribile Pelia per aiutare Giasone ma poi alla fine vengono scoperti e comunque devono scappare quindi Giasone non si riconquista il trono di Iolco che pure era suo proprio perché Medea si fa scoprire malamente Pelia viene fatta a pezzi no povera praticamente c'è un pezzo in cui Medea promette al padre di Giasone che è fatto vecchio di ringiovanirlo lo fa letteralmente a pezzi secondo alcune versioni taglia a testa braccia e gambe le mette in un calderone con delle erbe curative fa un travaso di sangue lo rimette a posto tipo Lego e il padre di Giasone torna pimpante torna non giovane però torna in forze e le figlie di Pelia per provare questa cosa se troviamo una sorta di chiropratico bravo che una cosa del genere la fa testiamo anche noi dai vediamo se ci rimette un pochino al mondo ma guarda altro che massaggi probabilmente ti senti da Dio dopo poi bisogna vedere che significa ti senti da Dio in quel senso nel senso che puoi anche essere belle che crepato Pelia invece viene messo nel calderone bollito ma senza le erbe magiche quindi viene letteralmente bollito oh signor neanche aromatizzato infatti che spilorciaggine niente 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 la tristezza proprio quindi lui deve scappare Giasone deve scappare insieme a Medea a Corinto con due figli perché sono dieci anni comunque che poi sono stanno insieme sì esatto c'hanno due figli infatti che è proprio una delle cose e anche lì non si sa neanche se sono solo due figli perché alcune storie dicono che sono tre altre che ne sono sopravvissuti altri due o un'altra o che c'è una figlia un bordello beh ma in mitologia ci sono adorati nei tempi d'oro il bello d'oro esatto che tra l'altro sto cavolo di bello d'oro tra l'altro proprio anche nell'opera viene citato perché riprendendo poi la trama Medea appunto quando rimane sola con i suoi tre simpatici amici è giunta a corte per reclamare i suoi diritti perché lei è stata abbandonata da Giasone e il re Creonte ha dato il permesso a Giasone per la sua fame e tutto il resto di sposare la propria unica figlia cioè hai una figlia e la dai Giasone a posto sei a posto perché Giasone è proprio uno dei peggio veramente eroi personaggi anche qui vi ricordate il mio odio per Pinkerton in Butterfly? ecco siamo lì siamo lì perché Giasone appunto pur essendo ammogliato con figli lui no rinnega l'unione per mettersi con Glauce e lui non desiste dalla sua posizione anzi il re Creonte minaccia Medea di scacciarla o addirittura di giustiziarla comunque di farle del male a quel punto Medea con aplomb con grazia e con gentilezza dice benissimo se non si fa come dico io io ammazzo tutti ma soprattutto inizio prima ad ammazzare la ragazza così la togliamo subito dalle pelotas subito così fuori subito immediatamente ovviamente Glauce sviene perché ovviamente cosa fa il sobrano lirico ovviamente cade tra le braccia delle ancelle oh mio dio come se non lo sapessi in che situazione ti sei andata che poi allora vabbè in che sei andata a mettere no perché una volta erano gli uomini che decidevano in particolare i re decidevano a chi andava come vi dò nel video che uscirà domani sul mio canale le donne non è che erano proprietà dei padri erano letteralmente bene da disporre dei padri quindi non c'era speranza che la poraccia Glauce se ne liberasse della volontà di Creonte perché era era un patto per in futuro andarsi a riconquistare Iolco cioè quello lo scopo era che Giasone si sposava con la figlia di Creonte diventavano alleati si andava a riconquistare Iolco e quindi i due regni diventavano alleati c'era tutta la politica in mezzo esatto è vero questo è vero tu sei un figlio di sì quello è peggio assolutamente tra l'altro proposito di concetto di proprietà e tutto il resto se mi permettete io farei già una lettura dalla Medea di Euripide perché c'è proprio questo argomento vai vai il primo monologo di Medea quando compare in scena nel dramma di Euripide che tra l'altro il dramma di Euripide invece si apre con la la fida serva di Medea che racconta cosa è successo nelle puntate precedenti degli argonauti di Medea che ha lasciato la patria dopo aver ammazzato anche il proprio fratello per andare via con lui questi due figli il fatto che lei si è trasferita a Corinto in terra per lei straniera e il ripudio e tutto il resto non solo c'è l'aggravante che molto presto Creonte le darà il banno fa il tasto ban a Medea e Medea quando su invito delle donne di Corinto con cui è amica perché comunque la sentono lamentarsi quindi dicono Medea esci che vogliamo parlarti e provare a consolarti Medea appunto esce di casa ed esordisce con questo primo monologo allora questo è uno dei due testi adesso perché ho unito un po' i due testi quindi nel mezzo poi pian piano allora Medea ecco donne Corinzie sono uscita per evitare critiche lo so ci sono molti uomini sdegnosi quali lontano dagli sguardi e quali in pubblico il riservo schivo e torpido frutta voci malediche di Gnavia non sta negli occhi la giustizia se non odesta prima di conoscerlo a fondo un altro per averlo visto senza avere subito nessun torto senza aver subito scusate senza aver subito nessun torto lo straniero bisogna che si adegui alla città che l'ospita e non lodo un meteo spavaldo che riesca in viso ai cittadini per rozzezza quanto a me mi è successa questa cosa inattesa che mi ha spezzato il cuore io me ne vado amiche mie perduta la gioia della vita non desidero che morire colui che per me ogni retto giudizio dipendeva si è rivelato il peggiore degli uomini lo sposo mio ma il fatto è questo noi donne fra tutti gli esseri animati e dotati di senno siamo certo le creature più misere da prima con enorme quantità di soldi è necessario acquistarsi un marito prendersi uno che si fa padrone del nostro corpo ma c'è assai di peggio e proprio qui sta il punto più spinoso prendersi un uomo malvagio o un galantuomo che non fa onore a una donna al divorzio né ad un marito è lecito ripudio se poi la donna arriva in un paese nuovo con leggi nuove costumanze deve essere indovina che da prima a casa sua nessuno gliel'ha detto con quale sposo avrà rapporti metti che l'ardua impresa ci riesca e che il marito sopporti di buon grado il gioco coniugale un'esistenza invidiabile che se non succede meglio la morte l'uomo se si stanca di stare insieme alla gente di casa esce e vince la noia ma per noi non c'è che fare c'è un'anima sola a cui guardare dicono che noi viviamo un'esistenza senza rischi dentro casa e che loro invece vanno a combattere errore accetterei di stare in campo là sotto le armi per tre volte piuttosto che figliare solo una volta sì lo so il discorso per te non è lo stesso che per me tu possiedi una patria questa e hai una casa paterna un'esistenza giata tanti amici io sono sola al mondo senza patria e mio marito m'oltraggia mi rapì come una preta da un paese straniero e qui non ho né madre né un fratello né un palente che sia nella sventura come un'ancora dunque da te vorrei poter avere soltanto questo semmai semmai troverò un mezzo una risorsa per punire il mio sposo facendogli pagare ciò che mi ha fatto tu taci sì una donna in tutto il resto è piena di paura di fronte alla violenza o al ferro e vive solo a vederlo ma quando l'offesa la colpisce nel talamo non c'è cuore al mondo che sia più sanguinario come vedete una pesoncina tranquilla quanto bella la parola talamo brava 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 ci sei piaciuta oh grazie dai bene io questo pezzo della tragedia l'ho tradotto dai davvero come compito in classe come esercitazione in classe l'ho traducendo ma che bella cosa chissà che felicità a tradurre cose di questo tipo mi sento di dire che stimolano molto di più però all'apprendimento è anche abbastanza semplice un ripide da tradurre non è proprio complicatissimo fu spunto di una lunga discussione poi questa questa questo monologo tramedea perché aveva una professoressa tra l'altro di greco l'anno quindi si parlò abbastanza di quanto fosse moderna come come situazione quella di Medea nonostante siano passati duemila anni assolutamente è una donna che mi sento di dire parecchio emancipata o comunque che si emancipa con grande disinvoltura questo sicuramente sì assolutamente il fatto appunto del per esempio dire che piuttosto che partorire sarebbe andata in guerra per l'epoca era un concetto bello peso il fatto che le donne devono acquistarsi il marito senza poi sapere chi veniva padrone del corpo addirittura cioè veramente di una modernità pazzesca è incredibile c'è ancora sempre ragione sì è vero c'è chi prende alle volte un po' troppo alla lettera no le cose sì esatto ma dai ma metti una pietra sopra una bella pietra tombale esatto ma sì cosa vuoi che sia no grazie a tutti sono contenta mi sia piaciuto sì effettivamente non ho mai letto un testo antico così sul canale questa è la prima volta ragazzi quindi anche a parte l'odissea sì giusto però sai l'odissea era una riscrittura contemporanea cioè era quella la storia non era riscritta non era proprio il testo dell'odissea vero e proprio però sarebbe bello che continuassi anche su questa anche su questa strada perché sì perché è un tipo comunque di letteratura che attira sì ma è molto bella anche Ex sta portando comunque dei testi mitologici aveva iniziato con l'Eneide adesso ha finito da poco l'Iliade io spero che porti anche l'odissea perché dovrebbe essere più o meno una versione se non la stessa quasi simile alla mia però io sono troppo curiosa di sentirlo fare polifemo è spettacolare soprattutto i suoi commenti sono bellissimi i riassunti di Excel pre lettura fantastico bellissimo ma Grivi ti ascolta un quello ma perché non fate una live tu ed Excel proprio visto che in questo momento no cioè perché non ti insinui proprio ma tanto io sono sempre lì io quando ma che c'entra ma che c'entra proprio dal vivo diglielo diglielo sarebbe bello dai 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 vogliamo dialogare ne parliamo con l'oste poi si pensa combiniamo noi qualcosa combiniamo vedrai vedrai anche perché la maggior parte delle volte che sono lì io sto lavorando anche ad alto perché la sabato e la domenica io lavoro il triplo rispetto al normale tra l'altro lo stesso voi dovete appagarci dovete divertirci siete lì per il nostro diletto infatti mi avvisa sempre la Vale quando sta in live sempre lei che dice guarda che sta in live sta in live Excel vai ma perché Excel a questa patica è molto geniale di fare le live improvvisate e quindi tu non sai mai quando arriva grande comunque ah giusto dove eravamo rimasti al momento della scena delle ingiurie delle maledizioni tipo maledizioni ma com'è che era shagura su di te shagura sulla tua mucca shagura sul bello d'oro sì esatto praticamente allora adesso mi sta un attimino perché col fatto che ho letto le varie versioni mi sto un attimino confondendo ma c'era in teoria ci doveva essere anche tipo l'intervento il dialogo tra Creonte e Medea dove appunto Creonte gli diceva io ti banno quello mi sa che è già nel secondo atto dopo allora ok quindi c'è la parte di confronto grazie Giada assolutamente anzi vuoi raccontarlo tu del bellissimo confronto tra Medea e Giasone dopo il fatto che lei ha già detto io vi accoppo a tutti si fa prendere un attimo dalla fattura facile diciamo cioè comincia a lanciare maledizioni un po' a destra e a manca giustamente come avevi detto tu prima viene citato anche il famigerato vello d'oro cagion di tanta sfiga e quindi lei già che c'è ma le diciamo Gesone ma le diciamo il vallo il vello d'oro e tutte queste cose ma cosa che sicuramente cioè non è proprio come dire non è proprio un volersi far ben volere comportarsi in questa maniera comunque va bene capisco che sia incavolata comprensibilissima comprensibilissima quindi grosso modo direi che è abbastanza telefonato il fatto che lei stia meditando vendetta esatto lei è lì bella bella insomma che rosica in un in un'ala del palazzo di Creonte quando viene raggiunta dalla sua servitrice Neris che cerca in vano insomma di di persuaderla di spingerla a lasciare Corinto insomma per favore insomma fatela un po' passare pensaci un po' su apriti un barattolo di Nutella strafogati di gelato però insomma cerchiamo un attimino di contenere il danno ma inutile dire che non ce n'è perché Medea è abbastanza risoluta insomma a consumare la sua vendetta questo non sono d'accordo però Sir Zellcor perché qua il problema è che Giasone ha pubblicato i video art di Medea più che altro perché è quello la mentalità e Medea avrebbe fatto tipo Lorena Bobbitt nei giorni notti semplicemente ha fatto proprio una strage però diciamo che Zellcor ci fornisce sempre delle immagini mentali che insomma che rimangono impresse e che ci piacciono ma sì dai diciamo infatti Neris tra l'altro c'è la Katia Litting se non sbaglio che secondo me si trova anche in internet può essere che ha interpretato il ruolo di Neris perché in tutto questo ci siamo un po' mi sono dimenticata di dire che giustamente se Medea è il soprano il sopranone cattivo Neris il suo contraltare è il mezzo soprano un po' la Suzuki della situazione quindi un mezzo soprano eccoci va giusto in effetti Zellcor aveva detto quindi il tonno della serata è Giasone sì il tonno è Giasone ma è un tonno cattivo questo non è pinne gialle chiamalo tonno cioè lui riesce a tenere il piede in 45 staff perché in tutte le versioni delle varie insomma nelle trame o negli adattamenti operistici se non altro lo fanno lo fanno passare come uno che insomma abbastanza abbastanza disinvolto riesce a destreggiarsi bene tra le varie situazioni sai cosa il tonno a questo giro è un po' più Medea o meglio diciamo così a livello generale perché all'opera lei ha già capito di essere stata presa in giro quindi è stato per dieci anni prima che si è fatta abbindolare la Giasone questo servizio di assassino gratis della famiglia ogni dieci parenti uccisi uno è gratis cioè alla fine Medea non solo gli uccide tutti quanti il parentato cattivo ma Medea le aiuta anche a recuperare il vellodoro uccidendo draghi dicendogli come affrontare gli sparti dannogli degli uventi per superare il fiato ardente del toro d'oro che c'aveva il re Ete a Medea le ha fatto qualsiasi cosa poteva fare a Giasone se Giasone avesse chiesto a Medea prima di tradirlo in questa maniera di camminare sul fuoco leccare un carbone ardente e vedere se era commestibile Medea l'avrebbe fatto sicuramente lei si è prodigata e giustamente le sta un pochettino sull'anima il fatto di dire insomma dopo che ci siamo sbattuti così tanto eccetera te sei già ammogliato hai figli ma che vuoi di più ma perché quindi guarda figurati lì tutti dalla parte di Medea tutta la vita semplicemente però effettivamente è da capire magari anche un po' il punto di vista di Neris il mezzo soprano assennato della situazione che un pochettino cerca sempre perché sono sempre più lungimiranti mediamente in mezzo soprani esatto prevedendo il disastro e la tragedia lei dice aspetta un attimo proviamo un attimino a frenare questo treno in corsa prima che ci schiantiamo chiaramente non ci riesce perché insomma Medea ormai lei è partito l'embolo e lei è esatto e tra l'altro Medea come giustamente anticipavi tu prima Vir ha un incontro anche con il re di Corinto che esatto fondamentalmente quello che le dice è gentilmente figlia mia io ti banno dal mio regno vattene prendi tutti i tuoi averi lascia questo posto e non farvi più ritorno ma lei che cosa fa riesce ad ottenere un giorno diciamo così di proroga per buona condotta per non si sa cosa forse per il fatto che il re ma lui non si rende neanche conto che in 24 ore quante cose si possano fare forse anche quello che lui non ha non ha valutato lei ha detto che voleva salutare la famiglia voleva prendere le sue cose badare i figli esatto sistemare quelle rupe lì proprio 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 l'ha fatto cioè ha badato comunque i figli alla fine giustamente non ha spiegato come lo avrebbe fatto però l'ha fatto bisogna sempre leggere le scritte in piccolo non è colpa di Medea di Creonte dove ha controllato i termini del contratto esatto tra l'altro anche qui c'è proprio in Euripide proprio la scena tra Creonte e Medea qui però è stata resa proprio molto come si dice molto importante perché appunto c'è un dialogo tra loro due assistito dal coro dei personaggi perché appunto come dicevo prima il coro ha una funzione proprio di personaggio a sé è un personaggio unico sì sì con una voce corale un'unica voce sì sì è molto impressionante che a livello peristico ci sta da Dio a livello teatrale effettivamente mi strania un pochettino ma effettivamente ha una potenza incredibile secondo me certo sì 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 tra l'altro quando l'ho visto così non è neanche corto cioè è bello bello lungo tra l'altro questo dialogo qua quindi effettivamente anche leggervi un passaggino magari potrei magari leggervi un pezzo del dialogo perché effettivamente appunto è abbastanza molto volentieri e vediamo un po' da dove poter iniziare magari cioè potrei anche leggervelo tutto però effettivamente non vorrei che fosse troppo aspetta prima di leggere metti il commento quello di Zell ti vedo più come un'ancella anche ha usato il metodo Franzo Zellcor Zellcor anche lui per me non vedeva l'ora che ricominciassimo la nostra rubrica di la verità Zellcor che ti stai appassionando anche tu all'opera al magico mondo dell'opera delle trame soprattutto allora ecco qua vediamo un po' potrei ecco perché poi tra l'altro il dialogo tra Creonte e Medea è proprio un bellissimo esempio dell'astuzia di Medea perché comunque lei gli fa intendere una cosa a parole e riesce a persuaderlo appunto a dargli questo giorno in più però lei nel frattempo appunto utilizza un po' delle sue tattiche no vediamo un po' potrei iniziare a leggervi da qua ecco da questo pezzo qua ahimè non ho per la prima volta anzi sovente Creonte a me nocque la mia fama e molti danni mi procurò mai non dovrebbe nella scienza un uomo diretto senno troppo scaltrire i figli suoi che a parte la fama che essi di indolenza avranno dai cittadini loro stile invidia riscontreranno che se nuovi esprimi i fini concetti al vulgo un perditempo e non un dotto sembrerai se poi migliore sembrerai di quanti anfama di saper vario in uggia ai cittadini verrai tale destino anch'io partecipo d'invidia a questi d'acrimoni a quelli la mia scienza è un obietto eppure è piccola scienza e tu paventi adesso che abbia a patire da me qualche male ma non temermi che io non sono creonte in tale stato che i sovrani insidi tu che torto mi hai fatto a chi ti disse l'animo hai data la tua figlia il mio sposo abbrisco sì ma duom di senno la tua condotta fu né se a te prosperi volgono gli eventi invidia io non te ne porto celebrate le nozze e a voi sorrida la felicità ma viver lasciatemi in questa terra io cederò sebbene soverchiata ai più forti e tacerò creonte dici parole audir blande ma nutro terror che in seno qualche insidia macchini perciò di te mi fido adesso meno di prima vuoi da un uomo vuoi da una femmina subiti all'ira puoi guardarti meglio che da un muto rancore orsù orsù partì dal più presto e non far troppi discorsi fu deciso così né tale un'arte possiedi tu che rimanere possa vicino a noi quando ci sei nemica medea no per le tue ginocchie per la sposa creonte sper di parole non potrai convincermi medea le preci mie non udrai mi scacci creonte perché non t'amo più della mia casa medea quanto massale il tuo ricordo patria creonte anch'io su tutto dopo i figli l'amo medea ai che gran malanne amor per gli uomini creonte sì ma secondo il volger degli eventi medea giove chi causa fu del mal tu scoprilo creonte ho stolta vada queste pene affrancami medea bene io ne soffro e aggiunte non mi servono creonte te spelleranno presto a forza i famuli medea non farlo no creonte te ne supplico creonte noie vuoi darci a quel che sembra donna medea lascia che questo giorno almeno gli oresti e il pensier volga a preparare il moto del nostro esilio e per i figli miei il viatico appresti ora che il padre di provvedere i figli suoi non cura abbi pietà di loro anche tu sei padre e devi per loro essere benevolo non mi curo di me se in bando io vado ma la sventura che li coglie è lacrimo creonte punto l'umore mio non è tirannico e spesso per pietà feci il mio male e or vedo che sbaglio donna eppure ciò che brami otterrai ma ti prevengo se la vampa del sol di mani al sorgere vedrà te e coi tuoi figli in questa terra tu morrai non sarà parola vana insomma gliela mena giù pesa devo dire e Neris che io l'ho sempre vista un po' tipo Mami con Scarlett o Ara no? per me lo percepisce che lei insomma che questa qua va a combinare dei casini per questo che continua a dire sì per favore però lo stesso parti andiamo ce n'è per favore leggimi il labiale però non ce n'è non ce n'è non ce n'è a me dè a parte il momento Kill Bill e quindi inizia a fare la lista delle persone insomma a stilare la lista da chi cominciamo a fare questa meravigliosa strage e da chi cominciare insomma quale madre non penserebbe di iniziare una vendetta contro l'ex marito seccando i figli che ha avuto con lui mi sembra una cosa abbastanza naturale ma avevo sentito tra l'altro mi era andata a documentare comunque prima di prepararmi in effetti avevo sentito adesso non ricordo neanche più in che video l'ho visto quindi appena appena mi troverò in mente magari lo linkerò in descrizione del fatto che secondo alcune interpretazioni i figli essendo un legame comunque con Giasone e vedendo lei e vedendosi lei ripudiata e quindi per una donna all'epoca vedersi ripudiata era perdere tutto effettivamente perdevi l'onore perdevi il posto in società perdevi la sussistenza era veramente devastata quindi l'unico modo per lei effettivamente di rompere completamente questo legame che la distruggeva era a sua volta distruggere ciò che rimaneva ma non solo a questo è che Medea è una dea cioè suona male dirlo così però Medea è nipote di Elio o forse anche figlia forse anche sorella figlia di Ecate secondo nelle versioni è una strega è divina tant'è che non si capisce bene se lei fosse mortale o immortale perché c'è dissonanza addirittura negli studi che si facevano ai tempi dei greci figurarsi oggi quindi Medea non solo rompe con Giasone uccidendo i figli letteralmente per chi ha letto il dottor Manhattan Watchman è come il dottor Manhattan abbandona letteralmente l'umanità se ne va via vola si è vero diventa uno e si libra in cielo si si Medea a quel punto lei è rimasta umana per Giasone per dieci anni ha abbandonato il padre il fratello l'ha ucciso ha abbandonato la colchide che è un luogo misterioso irraggiungibile all'estremo il punto nella terra si vede abbandonata dice letteralmente I don't want to live on this planet anymore si si ma poi c'è adesso ironia a parte effettivamente chiaro che per per i quelli che erano i grandi eroi i grandi condottieri del passato sicuramente il torto maggiore che potevi fargli era portargli via la loro la discendenza si si perché si dovevano essere figli maschi dovevano essere due maschietti quindi sono due due eredi esatto è verissimo è vero insomma diciamo che lei ci si sta mettendo insomma di impegno per per fare diciamo così per farla pagare a Giasone eccoci è una che le cose non se le lega al dito manco per niente possiamo dire per l'amor di Dio anche perché tra l'altro lei non contenta poi lei aveva già nel piano di comunque anche uccidere i figli ma ha iniziato ad attuare il suo piccolo piano malvagio seccando innanzitutto la sposa e il futuro suocero di Giasone perché inviava loro anzi inviava la ragazza sotto forma di dono perché poi si era finta remissiva appunto dopo aver parlato con Giasone e aver formulato il suo piano lo richiama e gli dice Giasone guarda in effetti sai anche tutto sto rancore mi scurdiamo ciò passato esatto ma dai sì 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 facciamo finta di niente dai vi do il regalo la cosa più bella che c'ho un peplo e una coroncina d'oro eredità di Eulo il sole che è parte della mia eredità lo mando alla futura sposa che poi già qua non gli viene in mente poi che cosa brutta già riciclare i regali ma vabbè chiusa parentesi è bene non è un regalo letteralmente eredità è il nonnino il sole è brutto uguale mamma mia dai che brutta ma tu hai la corona del sole capito cioè tu sei una principessina svampita di Corinto hai sedici anni in croce bella questa è la corona del dio sole che bella cioè effettivamente non viene in mente che ecco infatti poi quando poi Medea appunto offre cotali pegni alla ragazza poi per i fatti suoi c'è tutto ovviamente questo dramma interiore espresso ovviamente in maniera intensissima anche nell'opera in cui lei è lì che è combattuta comunque tra il compiere questo gesto infernale proprio e l'amore che ha per invece i propri figli è un continuo addirittura verso le aree finali poi di Medea parte con degli acuti il soprano che è una cosa che poi tra l'altro già da domanda ma io effettivamente ho visto anche una versione con l'Antonacci che lei sarebbe però mezzo soprano no beh l'Antonacci diciamo che no lei canta di tutto da quello che ho visto ha un tipo di vocalità molto versatile lei stazza dal sopranile al mezzo sopranile sì 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 infatti lei l'ho visto fare la Dorabella nel Così Fan Tutte di Mozart che è un ruolo prettamente da da mezzo no? ok e ha fatto anche vediamo ha fatto poppe ha fatto comunque tanti sì ha fatto comunque svariati ruoli anche borderline cioè borderline è brutto detta così sembrano ruoli bipolari ma nel senso che sono comunque sia un po' a cavallo tra il soprano e il mezzo soprano da soprano falcon cose così guarda lei ha una voce che è veramente unica quasi mi sento dire nel suo genere perché fai veramente fatica a incasellarla eh ma infatti chissà se domani faranno proprio il conieranno un nome apposta sì perché no la voce Antonacciana magari sì 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 sai cosa effettivamente mi era venuto il dubbio perché appunto io ho sempre visto comunque nelle registrazioni che ho avuto modo tra Maria Callas la Gwyneth Jones di cui ti avevo parlato in backstage comunque tutte voci che erano soprani drammatici comunque certo perché deve avere un tessuto anche abbastanza spesso per reggere certe intenzioni di Medea tra l'altro Medea è un personaggio molto drammatico e quindi ci vuole cioè mi viene da dire che servirebbe tipo un soprano verdiano cioè bello bello drammatico no? Possiamo dirlo? sì 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 beh sicuramente con una voce bella poderosa soprattutto con con l'orchestrazione come viene intesa adesso questo sì soprattutto contestualizzando in quel modo sì 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 ma l'Antonacci da un lato ha comunque un senso perché comunque avendo una voce tendente comunque prettamente al mezzo sopranile quindi lei ha delle tonalità medio gravi piuttosto interessanti e soprattutto sonore per repertori di questo tipo sicuramente in certi punti non in tutti ovviamente è più facilitata rispetto a un soprano che magari deve darci di più abusso nel registro nella tessitura grave e quindi dopo fatica magari a risalire verso gli acuti vero effettivamente sì non ci avevo pensato però appunto mi era venuto lo scrub che ho detto appunto sempre visto soprani ma quando ho trovato la versione con l'Antonacci mi sono detta ma no no ma l'Antonacci tu te la trovi così come la Cecilia Bartoli la trovi come tu sia come mezzo soprano lungo a fare tante di quelle sì sì sono quelle voci quei personaggi soprattutto così controversi nel senso positivo del termine insomma quei personaggi personaggi ma no ma davvero davvero sono interessanti quando ho beccato la Bartoli che mi faceva il castadiva quella volta la dici what perché se ci pensi comunque come tessitura come estensione rientra in quello che è le sue possibilità quindi è chiaro che un purista ti si mette le mani nei capelli e rabbrividisce e dice oh mio Dio sacrilegio però potenzialmente insomma rientra nelle sue corde vocali mettiamola così non magari nelle corde più tradizionali però però c'è insomma eh no in effetti sì ecco qui c'è una domanda per te Giada intanto interrompiamo un secondo la narrazione della storia c'è Meliodas sì la rigaccia la conosco l'ho presente sì tra l'altro lei se non ricordo male cantò anche a Sanremo non mi ricordo se con qualcuno se fu una guest la serata nella sera delle delle ospitate o comunque sia diciamo che si trovano anche sui video in tempi non sospetti come dire un po' più televisivi più pop come tipo di vocalità ma è un gusto mio personale la trovo un po' troppo vibrata e cioè secondo me il vibrato non è che deve essere quella cosa che il cantante usa per nascondere il fatto che sta suonando deve essere un sinonimo diciamo così di libertà della voce non deve essere cioè se no siamo tutti tarzane è abbastanza facile per tutti ecco chiaro che ci sono voci più o meno vibrate ecco quello per me è un pochettino al limite diciamo però sicuramente degno di nota poi da quello che so è anche una valida insegnante comunque vedo insomma anche anch'io di mio che tiene vabbè adesso in questo momento che è un po' particolare per tutti quanti no però l'avevo vista spesso in giro anche per masterclass e cose di questo genere insomma ecco tra l'altro c'è Jesus che ci ricorda che la Calas non soltanto l'ha interpretata a teatro e quindi ha fatto conoscere l'opera proprio in sé ma è stata protagonista sempre di una versione della Medea di Pasolini esiste proprio il film dove la Calas non è che canta però recita interpreta e tra l'altro ne avevo visto un pezzo di quella Medea difficilissima da fare perché di dialoghi ce ne sono veramente pochi in quel film ci siamo anche dimenticati di dire questa cosa poi lasciamo magari anche un po' la parola grivit che così alterniamo un pochettino a spesso musicale mitologico che nella Medea di Cherubini su cui noi ci siamo soffermati no è comunque rientra in quel genere lirico che alterna il parlato col cantato cioè l'opera comic eh sì infatti guarda anche Tito forse lo stava iniziando a preannunciare un po' ah ecco vedi è bene ma Tito ci legge sempre nel pensiero l'originale effettivamente è così che in che senso cioè io ho tradotto l'opera e lì la complessità tra l'opera quei quei buchi passi che mi pare tre o quattro passi ho tradotto dalla Medea di Euripide il punto è che noi non ci dobbiamo scordare che nella tragedia greca c'è il coro sì che il narratore voce esterna partecipa al alla messa in scena degli eventi e che in greco ha un particolare peso che parola utilizzi e che verbo utilizzi con quale tempo lo utilizzi non è la complessità o la lunghezza del dialogo a rendere pesante la situazione ma le parole che sceglie il personaggio perché scegliere un verbo che significa uccidere per vendetta è molto più pesante che utilizzare un verbo che significa solo uccidere è perché è più specifico quindi come rendi l'intensità di un dialogo in una lingua che può essere una lingua neolatina qualsiasi come può essere l'italiano il francese anche il tedesco che pure ha delle complicazioni ma lasciamo perdere per il momento la rendi con la musica lo rendi con gli intervalli musicali lo rendi con magari dei momenti in cui non c'è un cantato ma c'è un sonoro che è forte come faceva anche Wagner come faceva anche Verdi per dare quell'epicità non c'era solo il dialogo ma c'era una sonorità pesante pesantissima la mediana fin fine come lo risolvi come questione è una mamma che uccide i figli per vendetta contro il marito non è tanto quello che dice quello che fa che acquista un peso incredibile poi il fatto che comunque almeno se non ricordo male poi Gribit corregimi che sei più ferrato di me ricordo che si parlava molto del fatto che comunque nei drammi dell'antica Grecia o anche quei latini ma più nell'antica Grecia c'era questo fatto che quando si narrano dei fatti truci vengono resi ancora più spaventosi non tanto perché li vedi in scena ma perché ti vengono preannunciati pre-raccontati c'è un continuo ripetere anche di quello che verrà il coro serve a quello perché lì a ogni atto il coro ti dice cosa accadrà farà il suo momento di apertura dell'atto nuovo e il coro ti dice il coro ti dice effettivamente che guardate che l'inevitabile sta per accadere che la tragedia si sta per consumare tant'è che io ho visto in teatro solo l'edipore lo dico subito ho visto fatto da un mio amico tra l'altro perché noi facevamo anche teatro a scuola superiore teatro greco che meraviglia quando è stata la professoressa con cui traducemmo la la medea la professoressa voleva fare il teatro alla greca quindi l'unica cosa che non ci permettevano di usare erano le maschere per il resto avevamo tutto e il coro a un certo punto incominciava a ballare con i nastri rossi quando incominciavano a esserci le scene di uccisione di battaglia o quando c'era anche il trucco rosto per quando Edipo si cava gli occhi no che invidia quando dici così io non le ho fatte queste cose che belle sto male sempre nel concetto che cercavo di spiegare un po' di tempo fa in live ma vabbè della iubris cioè lì ogni tragedia greca è la iubris da da Eschilo in poi c'è sempre questo alone tanto ti deve calare una scure dal cielo apprendete a farti male male porco in testa ti deve arrivare la come dice Zeco praticamente come fa King che prima di uccidere un personaggio si dice uscì di casa e quella fu l'ultima volta che lo videro ma peggio perché lo ripeto ad ogni cazzo di atto ma in continuazione in effetti cioè effettivamente è un continuo è un continuo ah già c'è un'altra domanda sempre per te anche se sviamo un secondino off topic va bene ma vabbè dai parliamo comunque sempre di canto impostato e di tutto ah sì sulla famiglia Izzo la Fiamma Izzo sì che tra l'altro è stata una mimi interessante comunque eh vedi che si interessa Fiamma Izzo sbriciolare Bocelli quello che per i comuni mortali sembra eccellenza poi sì 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 ma aspetta la curiosità cioè cosa la domanda qual è che se è vero il rumor il rumor probabilmente non lo so effettivamente non ho colto effettivamente cioè c'era dire che Bocelli non sia un tenore da aiutare ma guarda io ti dico boh sinceramente io penso questo che comunque sia quando una persona fa conoscere l'opera lirica anche all'estero ti può piacere o non piacere però senti è comunque sia sempre una persona che si sta dedicando a a quel mestiere e poi senti non è che tutti ti obbligano con la pistola puntata alla tempia ad ascoltare a prendere i suoi dischi cioè sinceramente non eh il punto sai che cosa ah no si scusa vai vai Vittorio no Bocelli fa magari le canzonette cioè inteso in quel senso un tenore normale potrebbe vedere il repertorio di Bocelli come un canzonette pop però ma guarda il fatto è questo c'è da dire questo che la musica è poi sempre musica le tessiture sono sempre quelle anche Pavarotti allora tra l'altro quella buongiorno questo giorno cioè è una scelta quello che vuoi fare non è che ciao Lorenzo è chiaro che ciao ehi la the voice Lorenzo Pieri spettacolo parlavamo di voci parlavamo di voci ed ecco si sbuca fuori Lorenzo Lorenzo la contatterò a breve lo sappiano l'avviso anch'io dovrei abbi pazienza Lorenzo sono indietro ancora ti prego scusami lo devo contattare anch'io in effetti ma io penso questo che questo sì vedo che comunque sia cantanti direttori addetti ai lavori mediamente ammetto che questa nella fattispecie non la so però è molto probabile perché tutti si tagliano sempre volentieri molto i panni addosso ma io penso che se tutti vivessero e lasciassero vivere ognuno pensasse al proprio di percorso perché comunque Bocelli ha fatto sia dei dischi di musica leggera ha fatto anche delle incursioni nell'opera lirica con risultati che possono essere considerati più o meno pregevoli diciamo così ha fatto una Lucia di Lammermoor se non sbaglio sì sì ha fatto la Bohem una Lucia di Lammermoor e forse anche una Torandot quindi si è anche esposto diciamo anche in repertori quindi forse è stata anche un po' quella la scelta azzardata magari però come si dice sì 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 è vero come per Giovanni Allevi il fatto è questo che i gusti sono gusti io penso che una persona debba poter prendere come riferimento chi chi gli fa bene ascoltare non so come dire chi sia una persona che ascolta perché studia canto e quindi ha bisogno di come dire o qualcuno che studia col lavora con la voce insomma non so come dire quindi ha bisogno di un punto di riferimento se senti che quel particolare ascolto per te è didattico ma perché no cioè io da profano in materia posso dire una cosa cioè magari se domani volessi diventare cantante lirico e volessi ispirare a qualcosa probabilmente fra arrivare a fare il nessun dorma come lo fa Bocelli e arrivare a fare il nessun dorma come lo fa Pavarotti direi che punterei a Pavarotti per estensione vocale e chiarezza beh calcola questo che comunque sia la vocalità che uno ha è quella cioè diciamo che se tu nasci con una vocalità di un certo tipo quella è poi con lo studio sicuramente puoi migliorare da fare un paragone su quel punto di vista magari tra chi sceglie di fare un repertorio piuttosto che un altro cioè va vista anche la bontà di quello che fa nel complessivo non rispetto a un genere perché alla fin fine siamo tutti brillanti a dire che la troppo ci fa schifo sì però c'è gente che piace c'è gente a cui non piace ci sono artisti che fanno quello che fanno nel genere che preferiscono poi per la realtà è perfettamente sintetizzato quello che volevo dire sì sì sono d'accordo guarda ci sono anche i gusti poi personali e per carità forse una cosa io magari metterei in nota bene che anche secondo me comunque in generale ognuno deve avere comunque un po' una preferenza ed è giusto che ci sia e quindi appunto se magari uno inizia ad ascoltare i boccelli per poi effettivamente passare a dei tenori del repertorio operistico è un passaggio intermedio che si può fare benissimo e niente vieta l'ascolto di entrambi appunto l'unica cosa effettivamente che dicevo che sottolineerei magari questo c'entra anche un po' con la questione spinosa di Allevi che tipo noi come amanti di musica classica imbruttita ogni tanto ci abbiamo anche in passato giocato sopra ma era ironica sono certi meme della Betty come sparare sulla croce rossa la Betty ha fatto l'ironica quindi per carica di Dio Betty torna in chat ci manchi la Betty è un po' impegnata adesso ma tornerà tornerà e dovremmo fare una puntata con lei tra l'altro e come si dice ah sì volevo dire questo che non bisogna però essere anche assolutisti nel senso opposto perché ci è capitato effettivamente come community da noi di vedere che per esempio Bocelli o Allevi venivano magari sopraelevati tipo a supergeni no ah il nuovo Mozart oppure ah il nuovo Pavarotti eccetera eccetera no è l'erede di Pavarotti eccetera eccetera a me quell'assolutismo lì non piace perché Bocelli è Bocelli ed è bravo nel suo repertorio poi quando vabbè prova nella lirica come hai detto tu il risultato vabbè può essere quello che è però niente Bocelli però oggettivamente Bocelli nel suo repertorio che io chiamo melodico è bravissimo dire niente cioè magari che sia intonata così comunque per l'amor di Dio per carità e edema nel caso opposto di Allevi che appunto ha il nuovo Mozart no è Allevi punto non paragoniamo più che altro ecco sottolineerei magari soltanto questo che giusto che ognuno abbia i suoi gusti basta non diventare assolutisti o generalizzare nel senso appunto di ah il nuovo genio esiste solo questa cosa no ma soprattutto ognuno fa quello che riesce cioè quello che riesce è quello che vuole perché se io mi voglio dedicare un repertorio piuttosto che un altro e me la sento di poterlo fare a modo mio io lo faccio esatto qui c'è per esempio Lorenzo penso di aver colto forse quello che chiedeva certo non esiste la bravura assoluta quindi no infatti secondo me il punto è questo come si dice il fatto che una persona possa essere brava o meno un artista può piacere o meno è sempre una questione di soggettività secondo me ecco in questo ambiente secondo me sì un po' come quando noi che leggiamo nel senso ma per tutto è questo il fatto che comunque il mondo è bello perché è vario e perché è soggettivo eh esatto ecco giustamente anche Lorenzo cita occorre un equilibrio eh già giusto eh però Lorenzo sempre pacere sempre ci piace giusto giusto ha ragione Lorenzo lui ci guida comunque dai arriviamo anche sul finire della storia perché ragazzi vedendo scherzando la prima della medea è o questa cioè sono due ore mi sembra due ore mezza di opera ma de facto la trama sì di maledizioni di medea che era tragedia o sì e sono inventi di accasso cioè sì sì esatto a nastro proprio la medea che non vedero di insultare gente e e quindi appunto dicevamo quando poi la nostra la nostra medea ha inviato questo pacco regalo Corriere Amazon è stato rapidissimo a consegnare il pacchetto regalo con il peplo avvelenato con sorpresa diciamo con grande sorpresa sì medea poi mentre che lì che sta contemplando di uccidere i propri figli appunto c'è quest'aria poi col finale atri e furie volate a me che spara appunto gli acuti come vi dicevo prima paura e si sente il cuore in lontananza e dice oddio oddio è morta è morta no e anche Giasone lì che in lontananza piange oh mia glauce è fedele e giustamente medea e qui effettivamente tutto il pubblico secondo me l'ha pensato medea aggiunge va bene tu piangi lei e non piangi i figli tuoi che tra poco crepano e in effetti in effetti è quello che accade da breve e lì lei che si convince va dietro le quinte ovviamente compie l'atto entra in scena il coro con Giasone armato che dice adesso appena la trovo la coppa e oh mio dio ma i miei figli oddio anzi o dei ridatemi i miei figli e mentre lì che fa oh se anzi Neris entra in scena Giasone muovi le chiappette che qua medea ormai ha già fuori la lama e sta facendo spezzatini muoviti muoviti esatto per favore Ciccio muoviti esatto con lo stesso tono della signora Lovejoy proprio muovi i bambini uguale quindi Giasone giustamente Giasone essendo un tenore ci mette tre ore a fare le cose se siamo in tempo ancora dai corriamo arriva Medea che salta fuori tutta in sanguina e dice eccomi guarda la tua sposa schernita e tutti oh mio dio che visione d'orrore e e allora Giasone chiede maledetta ma cosa hai fatto perché le hai uccisi perché erano figli tuoi cioè proprio lapidata che domande anche tu Giasone quindi cade a terra disperato dei tutte queste cose qua e Medea conclude dicendo al sacro fiume io vocola t'aspetta l'ombra mia quindi praticamente dici io ti aspetto negli inferi per farti bubu sette e nel frattempo il tempio il tempio nel frattempo vabbè il tempio dove tra l'altro Medea ha coppato i figli perché l'ha fatto proprio all'interno di un tempio come se fosse proprio un sacrificio rituale in quel caso lì prende pure fuoco un po' stile il finale del cartone animato Disney di Robin Hood quando c'è il castello esatto incendiamo tutto piromania portaci via il core appunto fa di nuovo il fuggi fuggi generale e in questo fuggi fuggi generale il tempio che è infuocato Medea che lì è davanti a tutti insanguinata Giasone che è a terra disperato in questa maniera finisce l'opera di Cherubini la Medea più preciso di così devo dire insomma direi che tra regali riciclati e avvelenati figli che prima volevamo uccidere poi anche noi poi però sì ma delle due fossi stata in lei io avrei veramente non lo so evirato Giasone perché se una cosa è certa è che lasciare Giasone allo stato brado ma lui non appena può si ridona cioè questo è poco ma sicuro eh ma infatti quindi cioè tutto sommato non è stato però il punto a essere proprio onesti in realtà anche Medea si ridone in fretta ah sì c'è il dopo che da noi non esiste ma ad Atene diventa la regina di Atene scusa Egeo ah è vero ah è vero nelle Wipide lo diceva infatti che aveva preso l'accordo con Egeo diventa la matrina di quell'altro figlio di buona donna di Teseo cioè lei aveva la passione per i girovaghi diciamo però pensate come sarà contento Teseo ti piace la tua nuova matrina beh però dai Egeo era un bravo uomo tutto sommato non proprio sto 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 esempio di antipatia Teseo è un figlio di puttana scusate il termine Egeo aveva un carattere un po' liquido liquido nel senso che è un carattere di M intendi quello no perché il mare Egeo il mare Egeo si chiama così perché Egeo tendeva a precipitare un po' dalle rupi aveva questa brutta questa labirintite questo vizio non bisogna salire sulle rupi quando si soffre di labirintite esatto quando la diarrea ti coglie soffroni la conimodium quando la labirintite si coglie non salire nessuno di rupo esatto rimani tranquillo a cattuola comunque sì effettivamente mi è tornata in mente che nella medea punti di Euripide mentre lei lì che sta confabulando con se stessa il piano da attuare quel giorno appunto che le rimane per casualità incontra proprio Egeo che torna dall'oracolo che era andato a consultare perché non riusciva ad avere i figli che tra l'altro paradossale questa cosa qua lei ucciderà i figli e lui invece non riusciva ad averne sì 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 vabbè sempre così allora Medea appunto gli dice guarda se poi i miei ospiti è caduta Giada è caduta Giada è caduta vabbè magari quindi a parlare di Egeo che cade nel mare Egeo che cosa è successo e vedi è tutta colpa di Egeo ecco Zelkor giustamente cita Imodium sembra un po' il nome di una tragedia greca un personaggio più che altro sono caduta scusate dicevamo è colpa di Egeo vedi ti ha dato l'invento sì esatto vedi a prendere in giro Egeo non si fa non si fa sì esatto beh no però ce le va anche un po' a cercare no appunto dice lui no 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 Egeo non se le va a cercare lo stronzo del figlio perché Egeo si tuffa perché sei uno stronzo diciamocela tutta che mette le vele sbagliate padre quando arrivo se ho le vele nere sono morto quindi tu ti vuoi buttare non è vero sono rotte le vele uno non ha avvisato niente Egeo si butta con un deficiente nel mare ma questa cosa mi ricorda tanto Tristano e Isottame ma è chissà per quale motivo chissà perché fantastico no dicevo che appunto nella tragedia di Euripide c'era Medea che diceva guarda Egeo facciamo un piccolo scambio equo solidale io ti aiuto con le mie arti magiche magi magia a figliare a figliare e in cambio mi ospiti perché mio marito è balordo e mi sta maltrattando e Egeo appunto ignorando i altri piani di Medea cos'è che sta facendo ti sa no aspetta mi sono persa ho detto qualche cosa maltrattando ma ci sta maltrattando perdona vai parta la stupidera dopo un po' tranquilla ci piace per quello queste là sono belle perché la stupidera è all'ordine del giorno comunque io per giustificare Egeo vorrei dire che il suo tipo bisnonno aveva le gambe di serpente quindi magari aveva un canone diverso ah c'era già di problemi allora in famiglia vedo ma voglio aspettare gli piedi a uno così ma il terzo l'Ediatene era un tipo mezzo serpente e mezzo uomo quindi quando si dice parenti serpenti proprio guarda guarda mi hai letto nel pensiero guarda tra loro Medusa erano tutti quanti allora Eneo non era uno stinco di santo al massimo era uno stinco di maiale perché figlio gli ha prodite quindi non poteva essere proprio sabio bravo 90 minuti di applausi hai il mio la mia stima eterna perenne anche vita naturale durante e dopo adoro bravo io detesto Enea non lo sopporto non ce la posso fare il Pius Enea Pio Pio il Puccino Pio degli anni che furono io l'ho chiamato il Pirla Enea altro che Pius io non ce la faccio quando parleremo di c'è un'opera di cui potremo poi tornare a parlare con Grivit c'è l'opera di Don Edenea quella di Parcell dai Grivit ci stai? va bene a disposizione prossima puntata alle prossime puntate sappi che un giorno verrò Grivit a romperti le scape Vir tu mi hai letto un racconto che deve ancora uscire tipo tre mesi fa no quattro mesi fa quindi puoi venire a chiedere tranquilla ma si non ti preoccupare quando è pronto è pronto ci mancherebbe e quindi niente appunto la trama è questa qua se volete appunto possa andare a recuperare qualche altro estratto dalla medaglia di Euripide così così continuiamo appunto il confronto con i testi non c'è il monologo finale che fa prima di amazzare i figli allora ci sono diversi monologhi tipo c'è anche il monologo del servo che racconta come è morta la figlia del re e Creonte come muoiono perché ovviamente c'è tutto il racconto macabro magari per Zellcore che è un amante dell'horror magari si diverte dai dai tanto non dovrebbe far vedere quanto è lungo beh è un po' lunghetto però dai 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 ci piace dopo il monologo del servo magari leggo anche proprio il monologo che fa Medea proprio poco prima di uccidere i figli Valentina e non c'è stasera Pilgrim non c'è quindi non possiamo fargli lo scherzo ragazzi dobbiamo evocarlo pensiamo a una battuta pessimissima e volgarissima dobbiamo evocare Pilgrim troviamo il modo di fargli fischiare le orecchie facciamolo vendere qua già che Valentina ha pronunciato Larry sicura mi inquieta mi inquieta io capisco Pilgrim mi inquieta ho paura anche io infatti l'ha detto adesso la Valentina ho paura anche io delle voci dei bambini demonini quante cose avete in comune allora anche le fattute squalide che tendo a farne più del dovuto no si sono divertenti sì però effettivamente Pilgrim mi ha lasciato non lo dire non lo dire no no si sta addentrando in selve oscure stavo dicendo eh lo so io ho cercato di persuaderlo ma in bar no sto scherzando ci mancherebbe di fare i suoi esperimenti dunque è una reazione un po' eccessiva però è un nome proibito no no lo so lo so hai fatto bene ma dato che me l'avevi detto infatti stavo pensando a un modo carino per dirlo e stavo prendendo tempo mi hai anticipato io ho visto fior di video belli 40 ore di lavoro sopra demonetizzati per aver pronunciato per sbaglio quel nome oh mio dio peggio di Voldemort praticamente mamma mia è bravo zelco vedi che sintonia che sintonia eh no niente allora dicevo appunto leggiamo un attimino il testo del servo anzi leggo il testo del servo così io mi ammutolisco intanto diamo un po' di un po' di horror a zelco perché a tanto piace dato che appunto fondamentalmente è un po' horror comunque questa storia quindi ci mettiamo dentro un po' quelle poi leggiamo altri estratti assieme allora il servo però ecco devo pensare una voce per il servo fanno ubriaco guarda ma dai grimi tammutisciti pure tu mi ammutisco ma no perché era divertente beh prima o poi leggerò no ma prima o poi leggerò dei testi con una chiave un po' differente come in dracula morte contento pusta fantastico ok allora quando la coppia dei tuoi figli giunse insieme al padre oltrepassò la soglia delle stanze nuziali per noi altri servi accorati per le tue sventure gioia grande e subito ci furono gran sussurri all'orecchio che fra te il tuo sposo la lì era composta chi baciava la mano dei bambini chi la testa bionda io per la gioia li seguì nelle stanze delle donne la padrona che adesso rispettiamo invece tua prima ancora che gli occhi le cadessero sopra i due bambini guardava con amore verso Giasone poi però si nascose il viso volse la bianca gota indietro disgustata dall'ingresso dei figli il tuo sposo ne stornava la collera la rabbia dicendole perché non sei gentile con chi ti vuole bene e non desisti dall'ira e non ti volti avendo caro chi tuo marito ha caro e non accogli i doni e non ottieni da tuo padre di fare grazia dell'esilio a questi figli per amor mio lei come vide l'ornamento non resse e al marito accordò tutto e prima che i tuoi figli e il loro padre fossero lontani prese il manto screziato e se lo mise addosso pose la corona d'oro sui riccioli acconciandosi la chioma nello specchio lucente e sorridendo assembiante senza anima di sé poi si levò dal trono percorrendo le stanze della casa con un molle in cedere del candido piedino fuori di sé di gioia per i doni e Rita sulle punte si mirava più volte a lungo quel che accadde poi fu per gli occhi un orribile spettacolo cangiò colore e andava indietreggiando obliqua tutta un tremito negli arti ama la pena il tempo di piombare sopra un seggio evitando di cadere al suolo una sua vecchia ancella forse credendo a qualche accesso del dio panne o d'altro dio prorumpe in altre grida fino a che fino a che vede uscirle dalla bocca una bava bianchiccia e le pupille stralunate nell'orbita e le carni senza più sangue allora anziché un grido di preghiera levo gemiti lunghi e forti e quale delle ancelle corse nelle stanze del padre quale verso il marito novello ad annunciare ciò che alla sposa succedeva e tutta rintronava la casa di frequenti passi di corsa un marciatore rapido allungando il suo passo avrebbe attinto la meta ad una lizza di sei plettri quando lei dal deliquio muto e chiuso dello sguardo in un gemito tremendo si risvegliò l'assalto di due mali la travagliava sul suo capo il certo d'oro versava un prodigioso rivolo di fuoco divorante il manto fine regalo di tuoi figli le rodeva sventurata le carni bianche fugge alzandosi dal trono in un incendio agitando di qua e di là la chioma e il capo in quell'intento di scrollarsi la corona ma l'oro le serrava fortemente il viluppo dei capelli e quanto più lei scoteva la chioma tanto più il fuoco ribolliva cade a terra sopraffatta da quel morbo era irriconoscibile furché a suo padre non era più visibile né la forma degli occhi né il suo viso nobile il sangue dall'alto del capo stillava giù commisto al fuoco e come le lacrime del vino si staccavano dalle ossa le carni sotto il morso dei veleni invisibili spettacolo orrendo tutti avevano paura di toccare il cadavere l'evento era maestro ma il povero padre ignaro dello scempio all'improvviso barca la soglia e si abbraccia l'orta subito leva un gemito stringendole le braccia apostrofandola così povera figlia mia quale dio ti dà tale morte morte si indegna chi rende questo vecchio orbo di te mentre ha già un piede nella fossa hai figlia voglio morire con te quando finì di piangere e di gemere mentre voleva sollevare il vecchio corpo aderiva come al tronco l'edera il peplo fine una lotta terribile lui che voleva rizzare il ginocchio lei che di contro l'afferrava e se faceva forza quelle vecchie carni strappate dalle ossa le faceva brani desistè alla fine e rese l'anima sventurato non aveva più la forza di vincere lo strazio così giacciono morti figlia e padre l'una vicina all'altro una sventura che chiama il pianto ciò che ti riguarda sia fuori del mio dire lo saprai da te qual è la fuga dal castigo non è la prima volta che io ritengo le umane cose un'ombra potrei dire senza tremare che quanti fra gli uomini sembrano saggi e acuti pensatori sono votati alle pene più gravi che nessuno è felice fra i mortali l'afflusso del benessere fa uno più sventurato fa uno più fortunato ma felice mai è il servo poverino beh 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 ma io facevo una proposta alla chat se magari sono d'accordo e se tu provoca un po' di sbattimento post live diciamo no ma se tipo indicassimo nei commenti i punti in cui tu hai fatto le letture dal vivo il minuto esatto così si può anche andare a prenderle eh diteci cosa ne pensate vi piace questa idea perché veramente sono delle delle chicche se vi piace l'idea certo tanto appunto la live al momento sta durando un'ora e mezza quindi non è neanche tanto impegnativa da recuperare ma ci mancherebbe ah Lorenzo ci ha salutato ciao buonanotte Lorenzo anche se buonanotte ciao ci ha già salutato vedi vedi indossare la corona del sole sta cippa mister garian è un copione come si infatti è un freebooter martin un freebooter tremendo eh ragazzi beh si va che questa scena è abbastanza inquietante comunque oh ciao Gaia buonasera benvenuta non sarà mai come il re che abbatte acqua sonda accetta il figlio sul consiglio di Dioniso oh mio dio questa la vogliamo sentire cos'è questo del figlio non mi ricordo il nome del re praticamente c'è questo re che incomincia a fare casino a Dioniso che gli prende prigionieri i suoi i suoi alleati quelli del suo serraglio praticamente fa in modo siccome Dioniso può indurre visioni di follia fa in modo che il re veda il figlio che sta nella sala del trono a riferir di cose come un arbusto cresciuto nel bel mezzo della sala del trono quindi il re prende un'accetta dice adesso devo abbattere questo arbusto e davanti a tutti incomincia ad abbattere i figli è bellissima questa cosa scusa non dovrebbe però poterlo pure i greci erano massimi esperti di torture orribili ma vedo che questa cosa del mandare delle visioni per poi provocare i morti comiche era abbastanza in voga era molto mainstream eh lo fa era lo fa Dioniso eh allora fai come era fai come Dioniso e tu lo stronzo ma è roba da matti comunque no ma io tra l'altro ricordo anche un altro simpaticissimo si paretto mitologico Grit era tipo la storia di Tieste quella veramente ha messo dentro un casino di roba che era tra l'altro Tieste era cos'era non era era lo zio di Agamennone mi pare di sì era parente di Agamennone che Tieste era quello che si era mangiato i suoi figli e ha messo incinta l'altra figlia generando oddio l'avevo rimosso generando adesso provocherai gli incubi aggrivi lo stavo facendo stamattina e mi è venuto il buio perché dovevo fare un video su scusate non dovevo questo è lo zio della moglie di Agamennone è dalla parte di Tennestra l'avevo rimosso Dio santo se l'avrei voluto e tenerlo rimosso devo fare un video su Leda Leda già è il comico di per sé che viene ingradiata da un cigno e depone due uova ci piace essere originali beh mi sento di dire chissà magari deporre le uova è più comodo del parto tradizionale chissà mai non mettere limite alla provvidenza perché magari viene pure fuori che non lo so così sto ragionando in libertà ammetti che vale vale tra l'altro stavo sto vedendo sta roba bisogna vedere perché secondo alcune versioni lei è dovuta stare nove mesi con il sedere sulle uova a covarle cioè non so quanto può essere comodo l'atto in sé magari però sì diciamo che quello gli annessi e connessi sono un pochettino più brigosi ecco poi da quelle uova sono nate clitennestra e nella di troia castole polluce quindi magari hanno pure belle grossette infatti della serie in questo caso cos'è che dice parafrasando lì lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo non è tanto in questo caso è il parto che mi preoccupa esatto beh Zelcor ma il punto è che siamo in mitologia cioè no ma la scena è tipo arriva questo cigno bellissimo e Leda che è una fanciuta dice oh che bel cigno guarda apre le braccia il cignone salta addosso ma ha questo spiralone tra le zampe già pronto e quando atterra va anche di inserzione spiralone perché per chi non lo sapesse il cigno è una roba spirale tipo cavatappi a posto dell'ammennicolo giusto per darvi l'idea della situazione momento barbatura scenza brutta vai qui ci vorrebbe uno special intervento di barbascura che dice la scenza spiegata male saluto barbascura che mi segue sempre oh che rillo grande cigno curioso in tempi non sospetti davvero che figata ecco c'è Max che dice ma le magiche avventure di erodoto chissà di erodoto io ho fatto anche solo il video sui 300 erodoto era tipo un altro tamarrissimo che di quelle 10.000 persone che stavano lì alle termopili 5 milioni contro 300 non è vero sta calmo erodoto ha fatto un po' lo sborrone dai come ti esce bene l'Emilia Romagnolità dai un po' ce l'ho dai un pochino ce l'ho poco sviluppato ma ce l'ho e ciò beh allora dicevamo ah cos'è che dice Gaia scusa diciamo che la scienza brutta non rende più allettante il proposto di Zeus e vabbè e vabbè e va Zeus sapete che ha inventato di tutto pur di fare i porci come di suoi comunque però nessuno batte secondo me Poseidone che si trasforma in acqua e fesso fesso ingravida una ragazza semplicemente trasformato in acqua quindi facile indolore neanche se fatto vedere però andate la pigrizia mamma mia un po' di romanticismo un po' di originalità niente proprio che amarezza che amarezza allora io intanto sto andando a recuperare invece il pezzo che dicevi tu del monologo prima che Medea compia il suo gesto che poi tra l'altro l'estremo gesto esatto che poi si c'è un monologo tra l'altro intervallato col coro e con altre cose che si c'è più che un monologo almeno in questa versione qua che ho io è proprio un interventino comunque perché c'era tutto prima il monologo del servo eccetera eccetera però noi andiamo a cercarci comunque un monologo comunque vedo che sta perplimendo molto la chat la questione diciamo così del rapporto zoofilo e ragazzi sempre di regali augelli si sta parlando vogliamo parlare di Europa ragazzi prima un toro e poi un'aquila vogliamo parlare di Danae pioggia d'oro ecco senti allora almeno questo era un cigno cioè se non altro rientrava nel comparto aviario ancora ancora vediamoci che a un certo punto Zeus per farsi una delle ancelle di Artemide si è trasformato in Artemide ci ha fatto con la tipa i primi approcci in versione lesbo ragazzi qua Zeus era un professionista di queste cose ragazzi cosa non si farebbe pur di quagliare veramente era nel frattempo aiutava Giasone a fare quello che doveva fare ecco vedi ma non è che vedi non è che era Zeus che era sconveniente era era scusate il gioco di parole che insomma aveva forse delle tempistiche un po' sbagliate cioè mentre il marito era Lily che si guarda comunque ecco Grivito ho trovato che si è un monologo ma è abbastanza breve però noi lo leggiamo lo stesso no? cosa ne dite? allora abbiamo un filo vada tanto è molto corto e ragazzi comunque lo vedo già qua amiche è fermo il mio disegno i figli prima che io possa uccidere e lontano fuggire da questa terra farò e non concedete che per l'indugio mio muoiano i figli di più nemica mano e che essi moriranno è ferma necessità poiché bisogna io che li ho generati su dunque armati cuore che induci è vile non far ciò che bisogna anche se orribile su sciagurata mia mano la spada stringi la spada e muovi a questo truce termine di vita non essere codarda né dei figli pensare che d'ogni cosa ti sono più cari e che li desti a luce questo sol giorno i figli tuoi dimentica e poscia piangi anche se tu li uccidi cari sono essi e sciagurata io sono e questo sarebbe il proprio giusto l'attimo prima di perché dopo si sentono le urla dei bambini dentro poi c'è il coro delle donne che urla poi arriva Giasone quindi poi c'è la scena che va avanti al massimo c'è appunto il dialogo magari tra anche Giasone e Medea dopo che lei ha compiuto l'atto dove lui dice ah sciagurata e lei gli risponde poi prende parte con il suo strafighissimo cocchio dorato se volete possiamo anche giusto per concludere la serata fare anche quel quel perché no e poi poi si c'è l'ultima anche battuta che dice il coro proprio morale della storia che in realtà è quella che secondo me ha riassunto meglio Grivita inizio puntata Medea dove porre l'apostrofo rosa dell'avore si resterà negli annali quella quello che fa meglio Medea sa uccidere lei proprio ognuno ha il suo talento ragazzi esatto lei ci aveva questo ok ci piace lei era brava a fare la strega cioè c'è la figurina di strega e maghe famosi di Medea in qualche gioco di Harry Potter tra l'altro quindi dovrebbe essere per forza dai era una maga comunque vuoi un'inserire Medea allora vediamo un po' adesso prendo magari anche l'altro perché sto alternando Medea vede Medea uccide dice Zell aspetta aspetta che l'ho lascialo qua in sovrimpressione lo teniamo sì 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 lo teniamo lo teniamo ok allora vediamo un po' siamo a ecco qua ci sono ci sono proprio ci sono Medea e Giasone sarà un po' lunghetto mi sa e per cui mi sa che dopo questa concludiamo la serata perché appunto è un po' lunghetta nel frattempo ringrazio tutte le persone carinissime grazie ragazzi sono contenta che vi sia piaciuta la lettura e che vi stia comunque interessante appunto prima volta che porto un testo classico quindi anch'io sto un po' sperimentando da un certo punto di vista vorrei far notare che siamo più persone di prima cioè siamo arrivati a due ore di live e c'è più gente di quando abbiamo iniziato è vero è vero è verissimo mamma mia beh sono contenta di questo dai merito anche vostro ragazzi ovviamente allora Medea perché rinnovi e cerchi di forzare la porta alla ricerca di cadaveri e di me che ho compiuto tutto questo è una fatica che può risparmiarti se poi da me ti serve qualcosa di cosa vuoi ma la tua mano ormai non potrà più toccarmi questo carro è il sole il padre mio che me lo manda come difesa da mano nemica Giasone ah che odio che donna più di ogni altro odiava dagli dèi da me e da tutto quanto il genere umano hai avuto cuore di vibrare la spada su quei figli che partoresti tu di far morire orbo di figli in me dopo un'azione così dopo l'audacia dell'impresa più empia vedi ancora cielo e terra che tu possa morire ora capisco non capivo non ero in senno allora quando dalla tua casa e da una terra barbara ti condusci in una casa greca rovina trista traditrice del padre e della patria che ti crebbe hanno scagliato su di me il del bieco genio vindice dei tuoi perché uccidesti presso il focolare tuo fratello e salisti sulla nave argo bella di prora quello fu l'inizio poi sposata da quest'uomo generati figli per ragione di gelosia diretto tu mi hai fatto scempio non c'è certo donna greca che avrebbe osato tanto eppure a tutte tante posti scusate eppure a tutte tante posi sposando in un legame per me funesto e rovinoso te non donna una leonessa ancora più selvaggia dell'endola di scilla tirrenica ma il morso degli insulti fossero mille e mille non li senti così impudente come sei va va in malora con le tue nefandezze con quel sangue dei figli che ti macchia a me non resta che piangere la sorte mia che più non avrò il gusto delle fresche nozze e i figli da me nati e che nutri non potrò salutarli mai più vivi perché sono perduti ora per me Medea a godeste parole potrei certo porre lunghe repliche se il padre Zeus non sapesse sia quello che avesti da me sia quello che mi hai fatto tu non potevo permettere che tu spreggiato il letto mio te la godessi allegramente facendoti beffe di me né che la tua sposa regale creonte che a te la diede in moglie mi cacciassero via da questa terra impunemente dopo questo di pure se vuoi che sono una leonessa o la scilla che sta lungo il tirreno in ogni caso t'ho colpito al cuore Giasone anche tu sei coinvolta anche tu soffri Medea se tu di me non ridi mi sta bene Giasone figli che madre triste aveva toccata Medea bimbi va uccisi la follia del padre Giasone ma non è stata la mano mia ucciderli Medea l'oltraggio è stato e le tue nuove nozze Giasone per un letto hai creduto giusto ucciderli Medea per una donna credi che sia poco Giasone per una casta sì tu sei viziosa Medea la tua piaga sarà che sono morti Giasone crudi vendicatori sul tuo capo Medea di chi è la colpa lo sanno i dei Giasone sanno bene il tuo cuore che fa schifo Medea odiami sì ma la tua voce è urtante Giasone è a me la tua farla finita è facile Medea come lo voglio anch'io cosa vuoi allora da me Giasone lascia lascia che seppellisca e pianga i morti Medea no sarà questa mia mano a seppellirli nel tempio di Era Acrea li porterò perché nessuno dei nemici li oltraggi profanando le tombe istituirò per questa terra di Sisi una festa sacra un rito in espiazione dell'empio delitto io io me ne vado alla terra di Reteo o di Reteo scusate a vivere con Egeo di Pandione tu com'è giusto poiché sei malvagio di malamorte morrai vedendo delle mie nozze un ben triste fine Giasone ma le rigni dei figli e la vendice dea si abbatta su di te Medea quale dio quale demone ascolto darà quel traditore sperciuro che sei Giasone assassina dei vegli Medea torna a casa sotterra tua moglie su va Giasone vado avevo due figli e più figli non ho Medea ora è nulla l'invecchiaia vedrai che cos'è Giasone miei figli di Letti Medea alla madre di Letti non a te Giasone e li hai soppressi perciò Medea per nuocere a te Giasone l'amabile bocca di figli miei io vorrei baciarla misero me Medea adesso li chiami li abbracci tu che li scacciasti da te Giasone fa che io li tocchi la teneva carne dei miei figli fa che tocchi Medea parole gettate al vento non puoi Medea si dilegua nell'aria col carro alato Giasone tu lo senti in che moda respinto sono e quest'empia lo vedi che cosa mi fa la leonessa omicina dei figli Zeus ma per quel che posso sedato non me di far altro li piango invocando gli dèi perché il cielo mi sa testimone che tu dopo aver ammazzato i miei figli vuoi che io li tocchi non vuoi che io li tocchi e una tomba ai cadaveri Dìa così non li avessi creati mai per vederli da te trocedati Giasone esce coro sono molte le sorti che il cielo ci dà e compiono eventi inattesi gli dèi né ciò che credemmo diviene realtà risolve le cose incredibili un dio e così questa storia è finita ed è finita davvero ragazzi mamma mia che meraviglia mamma mia un finale effetto proprio boom beh in effetti la chiusa del coro è proprio bello cioè dà proprio quell'impatto dove sento proprio la musica che cala sul sipario proprio già no però è veramente un botte risposta che secondo me se lo riuscissi a portare sul canale assieme a qualcuno reso meglio secondo me sarebbe molto bello cioè molto potente questo spettacolo spettacolo ragazzi spettacolare grazie grazie davvero troppo buoni no sono contenta che di aver retto perché in effetti anche qua lettura semi a prima vista fondamentalmente perché sto usando e alternando le versioni che ho e ammetto che anche comunque il tono da utilizzare forse doveva essere un pochino più aulica però mi è sembrato di volerla usare un po' il mio solito stile no ma sarebbe anche antistorico perché oripide non era aulico era più terra terra per così dire ai limiti del possibile c'è Valentina Valentina che ha scritto ma capisco che Vir diventa psychodorti nel mezzo di Oz con i cambi che deve fare ogni volta si guarda se mi avessi un'inflessione pugliese avrei detto passami le pagine ti aiuto io ogni volta Giasone che cosa Giasone eh ma queste sono le personalità multiple invece che essere un disturbo lo usiamo per qualcosa di utile però Giasone con l'inflessione pugliese sarebbe stata una lettura interessante ma io penso che Giasone l'avrei esagerato tipo l'avrei fatto proprio ma quel ma quel cozzaro di barivecchia ma che cazzo hai fatto oh così fini e che cazzo bellissimo beh ma guarda che in effetti ci poteva anche stare io forse l'ho contenuto un po' perché in realtà Giasone andrebbe molto più calcato però appunto essendo le 11 mi sono un po' trattenuta però andrebbe effettivamente molto calcato cioè dal testo si vede proprio che è molto preso addirittura dice fai schifo cioè le dice le peggio cose è pieno di punti esclamativi comunque ci stava comunque l'interpretazione anche bella carica vabbè io ho primo per l'incorso per l'addizione beh dai se hai bisogno di una mano appunto vabbè io ok non ce l'ho magari super mega forte l'addizione però vabbè qualcosina si può fare ci mancherebbe pure grazie grazie a tutti sono contenta che vi sia piaciuta e che soprattutto vi abbiamo aiutato a far scoprire questa quest'opera un po' insolita che davvero su youtube ci sono diverse versioni ovviamente quella che trovate più di frequente è quella con Maria Callas in diverse registrazioni e poi anche questo mito così controverso che comunque proprio per questo è affascinante anche tu che dici la Medea è una delle cose che di tanto in tanto ritornano sempre sulla cresta dell'onda perché è un messaggio particolarmente femminista nel suo essere truce terribile la Medea è semplicemente una donna sedotta abbandonata disperata e come dicevo stamattina parlando con i miei genitori tra l'altro non c'è nessuna persona buona nella Medea e non il coro forse il coro ma neanche perché ma neanche il coro forse perché se ci pensi alla fine Medea dice voi rivolgendosi anche al coro voi saprete i miei piani ma non ditelo a nessuno se quelli del coro avessero rivelato il piano forse almeno i bambini sarebbero potuti salvare in effetti no? eh sì probabilmente sì però cioè il coro è comunque un'entità astratta non rappresenta nessuno nell'opera quindi non è neanche un personaggio è letteralmente il narratore della trama anche se si anche se viene spesso magari identificato a meno sì è come se si parlasse con la folla ma nel senso proprio lo spettatore quasi come se fossero parte del pubblico il coro è il destino manifesto e ah ho capito è come se è il mondo che assiste non so come altro spiegarlo ah è come se fosse una rottura della quarta parete più o meno perché non era intesa il coro canta il coro accompagna la chiusura di un atto e l'apertura di un altro quindi è letteralmente il collante che tiene tutto insieme eh in effetti sì appunto il coro interviene spessissimo nella nella mia idea comunque di Euripide cioè c'ha tantissimi pezzi ma veramente tanti quindi si vede proprio che è un perso quando dicevamo prima ragazzi che il coro nella non solo nell'opera proprio in sé della media di Cherubini ma anche proprio nella versione originale di Euripide è proprio un personaggio che porta una mentalità che porta dei valori ecco appunto lo dice anche Tito e che il coro rappresenta i valori della polis e quindi complice dello scenderarsi della psicosia anche di Medea sempre preciso Tito è vero è vero è ovvio che la Medea è stata scritta da un autore cioè in realtà sia Sofo che Euripide erano molto avanti con le tematiche noi quello più conservatore che abbiamo è Eschilo Eschilo è ancora tragedia epica quindi sono gli dei e sono gli eroi tra l'altro il ciclo dell'Orestea lo scrive Eschilo la faccenda della Iubris la faccenda del volere divino dell'eroe della giustizia queste robe qui però già Demosofo crede che è molto più avanti Euripide se ne esce fuori con la Medea che è un'opera sulla condizione della donna praticamente ad Atene dove le donne non contano assolutamente nulla tranne alcuni esempi di fulgi da schiavitù come può essere Ipazia la moglie la moglie accompagna di Pericle erano schiavi erano destinate a rimanere incatenate a un fornello in casa mentre gli uomini facevano quello che potevano fare erano idiote cioè senza diritto idiote in grico significa quello non poter essere cittadini con diritti politici si è vero è vero quindi Eschilo esce fuori questa tragedia con una donna che è esasperata dal mondo il pezzo che ha letto prima il primo frammento che ha letto Vir è questo è una donna che dice ma che noi che viviamo a fare siamo letteralmente dei pupazzi da ingravidare e da lasciare attaccati a un attaccapanno in casa esatto sì 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 molto modello parliamo parliamo veramente di 2500 anni fa e non è cambiato quasi niente e questa è la cosa più terrificante tra l'altro sì purtroppo sì proprio sì scusate questa di Meliodas la metto in sovrappressione no l'originale è Eschilo che qui si so Focle c'è puzza di Euripide perché così ti ricordi anche chi viene prima e dopo perché viene prima Eschilo poi Sofocle e poi Euripide Grimit per il sociale che ci aiuta questi sono i metodi per prendere l'otto all'interrogazione di letteratura greca esatto vedi queste perle devo rimanere vi adoro ragazzi bene ragazzi a questo punto se beh tu appunto Giada non ricordo se dovevi andare era questo l'orario Giada è vero sì purtroppo sì mi devo ritirare nei miei appartamenti c'è madama bianca ciao ma che bella sorpresa ciao dopo ti devo rispondere tra l'altro ciao lei è una mia collega narratrice bravissima tanto piacere ciao no lei è bravissima e come si dice appunto se ragazzi tu Giada se vuoi già andare appunto oppure se preferisci star con noi ancora cinque minuti perché appunto chiedo se in chat ci sono un'ultima domanda da fare altrimenti poi ci avviamo alla conclusione perché ridendo e scherzando abbiamo fatto due ore di live quindi appunto noi avevamo già raccontato tutto quello trinsecate i vostri malgrado avete delle domande sì esatto vessate grivit di domande è qui è qui per voi è qui per io voglio il vostro signor testio qua non non sono confuso adesso ragazzi sì ma no ma no dai adesso vediamo altrimenti ragazzi appunto se non ci sono domande o cose tranquilli appunto poi se no commentate perché grivit si impegnerà a leggere ogni singolo commento vero grivit? io vorrei dire che per scherzo sì ma in realtà lo faccio e lo sto facendo dall'inizio della live è tutto vedi allora anche indifferita commentate fate domande datevi delle risposte e grivit risponderà a tutto ma a qualsiasi cosa inerente alla mitologia inerente alla cucina alla falegnameria qualsivoglia cosa grivit risponderà ma più una cucina che la falegnameria falegnameria non me ne dite cucinare e so cucinare qualcosa tutto 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 voi qualsivoglia sia la vostra domanda grivit vi risponderà garantiamo noi soddisfatti o rimborsati ecco c'è giusto la domanda di Fernando Pilgrim c'è? no no infatti proprio noi abbiamo provato prima a invocarlo ma non ci è riuscito e ci riproveremo la prossima volta saremo più fortunati ma sì ogni tanto capita ma sì ragazzi non mi preoccupare tanto poi in genere lui è talmente carino poiché addirittura se le recupera cioè è troppo carino e quindi no niente ragazzi vedo che non ci sono domande particolari quindi a questo punto ah no c'è Mirko ciao Mirko buonasera grivit cosa cucinavano le donne ad Atene? una domanda molto veloce pollame non lo so non lo so non lo so pollame ciglio in agrodolce lui non lo so non lo so frittata frittata alla leda spalepita capra testicoli di capra e soprattutto i figli giustamente carne e mani per cui i figli specialità anche zelcor ci ha detto insieme a noi l'ha detto proprio mi raccomando ecco valentina giustamente ci ricorda di seguire aborigine mia campagna gdr sul sito viola se volete mi trovate lì esatto che ci sono anche lì cose molto simpatiche appunto tra l'altro vedi e a posto allora ragazzi vedo che domande altre particolari non ce ne sono quindi io mi avvierei alla conclusione e ai saluti ringrazio innanzitutto sia Giada che Gribit per essere stati con noi per questo ritorno della rubrica quindi poi Giada noi ci accordiamo per la prossima data della prossima opera che come sempre al momento non vi preannuncio perché la dobbiamo scegliere come ogni volta noi decidiamo all'ultimo perché ci piace però dico io è un tram chiamato desiderio nel senso che è il tram che ci viene addosso mentre parliamo del no si deve venire in live solo per urlare stile Marlon Brando sta là guarda io non scherzo se vuoi la prossima volta se vuoi fare l'urlo ti passo il link vieni a far l'urlo saluto tu e ciao ti prego davvero devi assolutamente farlo all'improvviso quando vuoi quando hai tempo a caso entri in live urli e ciao ma potrebbe essere bello dai non diciamo quando cioè non spoilerare a che ora magari lo fai eccetera quando meno ve lo aspettate esatto così dai creiamo anche la suspense la gente ancora più volentieri viene a vedere per aspettare l'urlo di Grimit esatto esatto così a caso poi magari ci mettiamo anche Pilgrim dentro che urla anche lui così a caso a Pilgrim lascerei meno diciamo darei un copione un pochettino più preciso delle due mi chiedo di più di Grimit di lasciare una volta libera Pilgrim ci deve essere l'interruzione pubblicitaria e deve andare è diventa un video vietato ai minori di 45 anni ti vogliamo dire Pilgrim ciao Pilgrim ti stai ascoltando questa like ti adoriamo tutti quanti soprattutto grazie di Grimit fai la pubblicità del Togo dai non farei queste cose di storio per favore è magnifico giustamente Max ricorda che l'urlo di Grimit terrorizza anche l'occidente perché sappiate che adesso il Dain è al massimo quindi io posso letteralmente assordarvi in questo momento meraviglioso meraviglioso davvero ecco la risata rauca di bello ci piace bellissimo mi sembra perfetto ma abbiamo già il piano malvagio pronto comunque davvero ringrazio tutti quanti allora i miei ospiti e ringrazio anche tutti quanti voi che avete assistito a questa live nel caso siate capitati per caso io sono Vir sono la voce narrante del canale Vir la forza delle parole ma nel frattempo faccio altre cosette simpatiche come queste live in cui raccontiamo in maniera simpatica l'opera la uniamo alla letteratura e volendo anche ad altre materie come in questo caso mitologia mi raccomando iscrivetevi ai canali di Giada di Grimite se volete e non lo siete ancora anche al mio nel caso vogliate aiutarmi a sostenere il mio o i nostri lavori trovate tutti poi i link e li inserirò tutti i link anche i vostri davvero grazie ancora e buonanotte a tutti ragazzi buonanotte ciao no tenga no te mostr no te mostr Grazie.